La bellezza è sicuramente il suo asso nella manca ma non è tutto Dopo averlo visto partecipare al programma di Maria De Filippi Uomini e donne competere per il titolo di Mister Italia, arriva la svolta per Nicolò Gallo A quanto pare la sua esperienza televisiva ha portato fortuna al giovane visto che, sebbene non sia riuscito a fare breccia nel cuore di Valentina Dallari tanto dal lasciare la trasmissione, il giovane potrebbe essere prossimo al grande debutto in terra a stelle e strisce La sua passione per la recitazione non è mai stata un mistero e ha sempre guardato avanti avendo nel cuore e nella mente grandi progetti per il futuro Il giovane, data la sua fisicità, aveva colpito anche Lori Del Santo ma sembra che per lui in ballo ci potrebbe essere molto di più Ex protagonista di Uomini e donne e quotatissimo performer in tante discoteche italiane e straniere Nicolò Gallo è ora corteggiato da stilisti di tutto il mondo, e anche dal mondo dello spettacolo Si dice che l'ex tronista sia il candidato con più probabilità per la nuova campagna di Caldington e potrebbe addirittura entrare nel cast di una nuova fiction prodotta dallo stesso staff di Il Trono di Spagna, riporta la rubrica sussurri e grida della nota a rivista Il Trono di Spagna, riporta la rubrica sussurri e grida della nota a rivista